Napoli, quartiere secondigliano, la strada è spesso citato dalla cronaca nera partenopea e nazionale ed è via Vanella Grassi. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli si attacciano alla zona e insieme ai militari della Compagnia Stella vengono effettuate diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. L'operazione a largo raggio è forte ed invasiva con la preziosa collaborazione dei rigidi del fuoco che hanno il compito di distruggere e abbattere qualsiasi ostacolo per la ricerca di armi. Siamo in un appartamento completamente disabitato ma ciò che salta agli occhi dei carabinieri è una recente ristrutturazione eseguita su una parete con evidenti segni di stucco. Bisogna abbatterla. Nell'intercapedina è un vuoto di grosse dimensioni con all'interno un borsone che i militari recuperano e aprono. Al suo interno una mitraglietta calibro 9x19 di fabbricazione argentina con matricola a brasa, una pistola Mauser semi-automatica calibro 7,65 con matricola a brasa e un revolver Smith & Wesson calibro 28, anche questa con matricola a brasa. Armi ma anche munizioni. 57 le cartucce di vario calibro rinvenute nel borsone. Le armi solitamente utilizzate dalla criminalità organizzata, perfettamente funzionanti, sono state analizzate e sottoposte ad accertamenti dattiloscopici, biologici e balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Grazie a tutti.